Salve a tutti. Il gioco che vi presenterò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Elgate London. La trama di questo gioco del 2008 tanto per cambiare ci porta in uno scenario post-apocalittico dove i demoni dell'inferno hanno preso possesso di tutta la terra. L'epicentro di questa invasione, molti anni prima, era stata Londra. Noi siamo un personaggio a caso di quest'epoca il cui obiettivo sarà ovviamente ricacciare i demoni da dove sono venuti. Tutta la partita si svolgerà quindi fra le rovine e i sotterranei della capitale britannica, con una particolarità. Visto che la mia serie si chiama Random Gameplay, i livelli di gioco sono ovviamente generati casualmente in maniera diversa ad ogni partita. Se queste immagini non vi fanno già venire la qualina in bocca, vi informo che questo titolo non è il solito easy, ma è stato creato dagli stessi sviluppatori di Diablo. Sì esatto. Quelli che avevano lavorato anni prima per la Blizzard e che poi si sono separati da questa per creare questo gioco. Vi chiederete allora, come mai questo gioco non lo gioca quasi nessuno? Lo vedremo poi dopo che ne avrò illustrato i contenuti. Le uniche zone del mondo che non cambiano mai sono alcune postazioni fisse, come ad esempio i monumenti di Londra, che però sono inserite in un contesto di mappa casuale e le stazioni della metropolitana. Dopo l'invasione infatti la gente vive in città sotterranea ricavate proprio nelle vecchie stazioni del metro. In queste stazioni si possono infatti trovare altri personaggi non giocanti che, oltre a farci proseguire nella trama, ci forniranno queste aggiuntive, faranno da shop, ci cureranno o ci permetteranno anche di creare nuovi oggetti con il crafting, usando particolari macchine. Se avete sentito bene, ho detto proprio crafting. E questo ricordo che è un gioco del 2008. Non sono però riuscito a usare questa feature in quanto richiede oggetti rari, ma esiste. Da ben tre anni prima dell'uscita di Minecraft. Ora vedrò di riassumere brevemente la trama fin qui. Il vostro personaggio in sostanza spavna a breve distanza da dove un gruppo di Templari è stato annientato. Tali cavalieri fanno parte di un ordine che si occupa di combattere i demoni. Dopo l'Apocalisse infatti la civiltà tecnologica della Terra è stata costretta a riscoprire le arti magiche e sacre perdute per sopravvivere. Sul campo di battaglia trovate un uomo di nome Murmur e un templare superstite che vi chiede, prima di crepare, di consegnare al capo della stazione di Covent Garden un messaggio da parte di un certo dottor Fognes. Vi recate quindi al rifugio più vicino, la stazione di Holborn, e scoprite che questa è stata da poco attaccata dai demoni. Nella battaglia inoltre è stata danneggiata la porta di comunicazione con Covent Garden. Se questa non viene riparata, dalla vicina stazione non potranno arrivare rinfini, forzi e rifornimenti. Il tecnocrate che dovrebbe riparare tale porta ha quindi bisogno di alcuni condensatori, che possono essere trovati ammazzando i demoni nelle vicine fognature. No, guarda che fatalità. Voi in game siete un guerriero che deve andare a Covent Garden. Capitate proprio a Fagiolo. Questa è la quest principale in questo punto del gioco. Sono disponibili anche due quest secondarie. In una dovrete recuperare la protesi di gamba di un bambino rubata da un demone nelle vicine vie cittadine e nell'altra dovrete ammazzare un po' di zombie per far contento un altro tizio. In questo video giocherò queste tre quest con le varie classi disponibili per farvi vedere sia come la generazione procedurale riesce a creare dei livelli variegati sia per mostrarvi appunto le varie classi disponibili. Questo è lo shop cittadino. La moneta di scambio in questo gioco è il palladio, ottenibile ammazzando i demoni come drop o vendendo gli oggetti. Questo gioco poi ha molte cose in comune coi vecchi diablo. Oltre alle mappe casuali e al gameplay hack and slash, troviamo ad esempio gli analizzatori, che permettono di scoprire qualità nascoste negli oggetti o i sistemi per teletrasportarsi nella più vicina città al sicuro mentre si è nel campo di battaglia. Premendo tab poi potrete avere una mappa in tempo reale di tutte le zone che avrete scoperto in un livello, premendo M potrete vedere come le porte collegano i vari livelli e premendo L avrete un elenco di tutte le missioni che avete accettato. Nella mappa i punti interrogativi rappresentano gli NPC conquest accettate e i punti esclamativi quelli pronti a darvi una ricompensa per una quest completata o con quest disponibili. Il nostro obiettivo ora è recuperare la protesi del bambino in mano ad un boss. Vi invito ora ad osservare attentamente la disposizione di strade ed edifici fuori dall'uscita della metropolitana, così li potrete confrontare con quelli generati nello stesso livello che giocherò con la prossima classe. Tenendo conto che questo gioco è del 2008, la grafica la ritengo abbastanza curata, sicuramente meno non lo sono le animazioni dei nemici, che mi sono sembrate piuttosto meccaniche. Questo gioco in realtà non ha fatto molto successo e, fra le altre cose, è stato duramente criticato per la poca varietà degli ambienti, di aspetto sempre troppo, tra virgolette, uguale. Beh, a mio modesto parere questo è in realtà un problema di tutti i giochi generati casualmente. Infatti questi livelli, ma anche quelli dei primi diablo, altro non sono che dei modelli prefabbricati che vengono poi assemblati fra loro in maniera casuale. Ne consegue quindi che per forza di cose questi livelli abbiamo molto fra loro in comune come aspetto estetico. La generazione procedurale però ha un indubbio vantaggio. Quello di creare disposizioni di oggetti, nemici e murature che, sebbene sempre uguali nell'estetica, sono disposte sempre in maniera diversa nei rapporti fra loro. Questa particolarità rende poi il gioco sempre avvincente in quanto non sai mai davvero da dove verrai attaccato. Un nemico che si teletrasporta davanti appeso nascosto dietro ad un angolo ti può far cagare in mano anche dopo ore ed ore di gioco, cosa che non potrà mai avvenire con altri titoli, dove i livelli dopo un po' si imparano a memoria. A questo poi si aggiunge la notevole rigiocabilità garantita da partite sempre diverse. Un'ulteriore fonte di uguaglianza nei livelli generati casualmente mediante algoritmi frattali è quella che, in questo campo della matematica, è chiamata autosimilarità. Per farvi un esempio pratico, l'aspetto di una spiaggia ricorda le figure frattali realizzabili con in realtà semplici equazioni matematiche. Queste equazioni sono infatti spesso usate in molti giochi per generare nuove mappe, come ad esempio in alcuni giochi strategici di guerra come Age of Empires. Queste equazioni sono caratterizzate dal fatto che le forme che generano, se ingrandite, mostreranno sempre la stessa figura riprodotta in scala più piccola e leggermente modificata. Fate una prova ad esempio guardando una cartina della Liguria su Google Maps. La Liguria è di fatto un grande golfo che, se ingrandito, mostrerà che può essere suddivisa in sottogolfi sempre più piccoli. E se arrivate dalla mappa dell'intera regione fino a poche decine di metri di altezza dalla spiaggia, riconoscerete sempre che queste strutture a golfo si ripetono sia avvicinandosi alla costa sia ripercorrendola in tutta la sua lunghezza. Oltre a questo c'è da tenere anche in conto che le equazioni frattali non possono descrivere al meglio ciò che è creato dall'uomo, che spesso di frattale non ha nulla. Se infatti la disposizione di edifici e strade può essere ben riprodotta mediante questi modelli matematici, l'aspetto estetico degli edifici decisamente no. Ogni edificio infatti è caratterizzato da un suo stile artistico. Cioè da qualcosa di tipicamente umano e non riproducibile mediante il caso. Se non fosse così gli architetti e tutti gli artisti di questo mondo sarebbero disoccupati. Forse una soluzione a questo problema potrebbe essere implementare un sistema in cloud dove i giocatori possono salvare degli edifici creati da loro e condividerli con il resto della comunità. Da questo enorme database potrebbe poi attingere il motore di gioco per cercare delle case da piazzare all'interno dei mondi generati. Si unirebbe così da un lato la varietà di paesaggi creabili con la generazione procedurale e dall'altro la creatività umana necessaria per ottenere ambienti antropici convincenti dal punto di vista estetico e anche più giocabili. Su questo punto molto in Planet Explorers. Il gioco infatti dalla prossima versione implementerà la possibilità di salvare gli edifici come falle anche un cloud su Steam. Sarebbe molto interessante utilizzare il database di questo cloud per lo scopo qui descritto. Già che ci sono, vi informo inoltre che sono stato costretto a bloccare la serie di gameplay su Planet Explorers. Il vecchio salvataggio infatti non è più compatibile con la nuova versione del gioco. Non farò a sto punto più un'altra serie per evitare di perdere di nuovo i dati, piuttosto farò dei video singoli di aggiornamento all'uscita delle varie versioni. Notare poi che molti dei critici che hanno aspramente rotto per la poca varietà degli ambienti in questo po' poi hanno lodato Minecraft, che di grafica e variabilità ambientale è prossimo allo zero assoluto. Misteri della vita. Dopo questo lungo ma necessario off topic ritorniamo al gioco. Adesso sto usando un'altra classe, il mistico, e sto rifacendo da capo lo stesso livello che prima ho fatto col maestro di lame. Come potete vedere a conferma di quanto detto, la distribuzione delle strade e degli oggetti è completamente diversa da prima. Ok, gli edifici sono più o meno sempre quelli, ma l'effetto sorpresa di trovarti un boss dove non te lo aspetti, specie nei livelli un po' più avanzati di questo, posso garantirvi che è assicurato. Il mistico è un'altra classe presa direttamente da Diablo, in grado di utilizzare le magie. A seconda del guanto che indossa e delle abilità che impara coi punti esperienza, infatti può lanciare diversi incantesimi, con diverso danno ed effetti sul nemico. Ora vediamo un'altra classe e un'altra ambientazione di gioco. Questo è l'ingegnere nelle fognature. Con lui vedremo la missione di raccolta dei condensatori, quella della quest principale. L'ingegnere rispetto alle altre classi è in grado di sparare con le armi da fuoco e anche di attivare delle torrette. Di fatto l'ingegnere e il tiratore scelto, altra classe simile a questa che non mostrerò, sono la naturale evoluzione dell'arcere di Diablo in un ambiente 3D futuristico. Non dovrebbe stupire quindi che di default la sua visuale sia in prima persona ed eventualmente convertibile in terza muovendo la rotellina del mouse. Anche altre classi hanno questa possibilità di cambiare visuale, ma non tutte. Inoltre, e questo è forse un altro difetto del gioco, al contrario di Diablo 1 qui le classi sono non comunicanti fra loro e anche gli equipaggiamenti non sono universali. Ad esempio i fucili possono essere usati solo da tiratore scelto e ingegnere, mentre le spade solo dal templare e dal maestro di lame. Ad ingarbugliare ulteriormente tutto ciò, molti oggetti di abbigliamento risentono in modo ancor più ingiustificato della stessa limitazione. E peggio ancora molti boss, fra cui quello visto prima, danno drop utilizzabili solo da alcune classi, costringendoti dopo molta fatica a rivendere il bottino. E pensare che il guerriero con equipaggiate le magie era il mio personaggio preferito in Diablo 1. A detta di molti è probabilmente stato questo presunto connubio fra FPS ed RPG a non far apprezzare questo titolo. Infatti secondo me, più che come un FPS con dentro mappe casuali come possono essere Paranautical Activity o Tower of Guns, questo gioco va visto proprio come un seguito di Diablo, con dentro solo alcuni elementi FPS. Qui infatti non avrete né la freneticità di un FPS arena, né la necessità di coprirvi e comportarvi da strateghi di un FPS più moderno. Questo gioco è hack and slash puro come lo era il vecchio Diablo, solo in una rinnovata veste 3D e futuristica. Immaginandovi questo, se siete fan del genere, potrete godervi a pieno questo titolo. Ora torniamo ancora a vedere un'altra variazione del livello di prima. Le macchine che avevo attivato all'inizio servivano solo a scovare e ad identificare i nemici in mezzo al vapore dei sotterranei, ma passando di livello e premendo K sono riuscito ad invocare un secondo tipo di torretta in grado di provocare danno ai nemici. Vediamola in azione. Una volta acquisita un'abilità con i punti esperienza, vi basterà trascinarla nel menu rapido in basso, come ho fatto vedere prima. Per utilizzarla premento il relativo tasto numerico. Lo stesso vale per gli oggetti, come le trasfusioni base, che ho più volte usato in questo video per curarmi e qui e qui faggiate nello slot 1. L'invocatore è l'unica classe che ancora non ho citato. Non mostrerò nemmeno questa in quanto anche lei può usare armi da fuoco e, a differenza dell'ingegnere che è in grado di attivare torrette, in modo simile lui può invocare daemon in battaglia per farsi aiutare. Per aprire l'inventario degli oggetti basta premere i. Ora veniamo invece alle brutte notizie. Come già detto, questo gioco è stato accolto molto freddamente dalla critica per i motivi che ho illustrato e di conseguenza la casa produttrice che lo ha fatto, composta da sviluppatori di tutto rispetto, ha dichiarato bancarotta dopo un anno. Questo significa che questo gioco non è più supportato ufficialmente e il suo multiplayer online non funziona. A peggiorare le cose, perché in fondo al pozzo si può ancora scavare, il gioco è stato venduto a una società coreana che lo ha trasformato in uno squalidissimo free to play, chiamato Hellgate Global. Sì, avete sentito bene. L'ennesimo Massive Multiplayer Online RPG con contenuti pro a pagamento e un mondo non più generato casualmente. Hanno rovinato un gioco bellissimo solo perché non lo hanno capito, non ho più nulla da commentare. Per fortuna c'è un progetto ancora in vita chiamato Hellgate Revival che ha preso il gioco e lo ha moddato apportando numerose migliorie all'originale, fra cui lo sblocco dei contenuti premium, che purtroppo anche qui erano presenti, le classiche passano da 6 a 3 e ha anche risolto molti glitchi grafici e bug che hanno in qualche modo contribuito a renderne disastroso il rilascio. Il link di questo progetto lo trovate in descrizione. Tengo a precisare che Diablo 3, dopo questo fallimento, credo proprio sia tornato sui passi dei suoi predecessori, con l'assenza di una visuale in prima persona, che secondo me su un vero 3D non isometrico rappresenta uno spreco di risorse ed una sconfitta dell'innovazione nel gaming. Inoltre ha anche abbandonato la generazione procedurale dei Dungeon, che nell'ultimo capitolo della saga lavora solo su alcuni punti delle mappe e non le genera da zero, e ha adottato un business pay to win tra i più vergognosi mai creati. Il sistema delle aste chiuso da poco offra molte proteste. Ma forse questo che vogliono i players moderni. Vincere facile sborsando? Spero vivamente che non siate tutti così e spero che il nuovo modello di business intrapreso per Unreal Tournament 4, basato sui contributi della community e su un codice sorgente aperto con utilizzo gratuito del gioco faccia successo. E ripeto gratuito ed open source, non free to play. Infatti saranno i modder a pagare una piccola quota mensile alla casa produttrice di questo gioco per pubblicare tutto nello store ufficiale, dove fra l'altro gli interessati potranno anche guadagnare vendendo le loro creazioni. Beh, avevo molto ancora da dire, quindi l'invocatore col suo piccolo daimone ve lo sto mostrando ora. Per concludere, questo è un gioco sicuramente da far provare ai vecchi appassionati di Diablo come me. Ve ne innamorerete subito. Certo, bisogna passare davanti a qualche glitki grafico come le ombre che si riflettono stando sotto ad un nemico, ma considerando quello che si trova oggi sul green light di Steam questi sono solo babini di poco conto, magari già risolti con le patch del Team Revival, che io non ho provato e che credo implementino pure il multiplayer o abbiano intenzione di farlo. Spero che questo video un po' lungo vi sia piaciuto e vi do il solito arrivederci alla prossima.